a giustizia e poi se ci fanno scendere fino a pensare buongiorno buongiorno che ora so? 6 e 40 6 e 40 e niente stiamo qua franchetti ancora qua buongiorno ragazzi che giorno è il 9? il 9 giugno invece di stare al mare noi siamo in piena civiltà montanara diciamo che abbiamo dormito al franchetti per essere i primi e siamo quasi gli ultimi arrivano flotte di gente correndo ovviamente però bello tutto molto proposito e via attenzione attenzione ok ok ragazzi ok ragazzi siamo rientrati in perfetta modalità attacchi verticali style la vetta è quella e la vetta è quella la vetta è occidentale io personalmente sono fermato qua perché è un punto buono di drop così almeno due curve non è che ho le gambe spappolate non gliela faccio più tocca a scendere ancora la cosa è lunga e invece i ragazzi stanno qua dietro e loro proveranno a farla speriamo che riescano a fare l'ultimo l'ultimo traversello e speriamo pure che non c'è tanta gente e niente ok io lo aspetto qua aspettiamo qua dai e a dopo ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.